Ciao a tutti, siamo a casa di Adriano nel vetto di Dario, ciao Dario, è la seconda giornata di riprese e dobbiamo aspettare esattamente altri sei minuti che spebbero in bagno, riprenderemo Maria che la seguiremo nelle sue faccende giornaliere, questa è la seconda giornata di riprese perché la prima non avevo la GoPro quindi non ho fatto niente, la smetti, saluta, saluta, Andonio, saluta Andonio, è tutto buio, è buio, la smetti di camminare col mio boom in modo mafioso, un granchio, e lui ci fu, quindi è il bisogno che metto il max? No, metterlo, per sicurezza metterlo, allora stiamo andando da Maria X, è Ciccio? Perché X? Perché X? E Ciccio sarà già lì, sono le, che ore sono? Eh però sei lento, 8 e 42, sono in piedi da quasi due ore, mi sento fortunato, anzi no, cosa è fortunato, questa è una citazione al grande, al grande Mark X, oggi con la X, vediamolo nella sua professionalità a mettere le maps, è un momento mazzio, no, svolta a destra, subito è partita, vabbè ci vediamo, però c'è Ciccio, bello, no ti prego, sto vloggando, ciao amici di Youtube, un bacio a tutti, iscrivetevi, Ciccio è molto sveglio, alza gli occhiali, alza gli occhiali, alza gli occhiali, cinese, ok abbiamo trovato Ciccio e, ma prima come finire la sigaretta l'ho ucciso adesso, è molto arrabbiato perché non riesce a finire la sigaretta perché andrì hanno già partito in modalità running, modalità lavoro, fagli vedere, non so qual è il campanello, ne attacchiamo alle 9, sono, non si leggere i numeri, gli arabi, un cavallo, un cavallo, ma non mi mettere il bomb davanti, un cavallo, comunque non so qual è il campanello, qual è? Mi fa il bombi, vabbè ragazzi, chiudi, chiudi, ci vediamo dopo, ciao amici, ci vediamo dopo, Piacomo, vabbè ragazzi, chiudi, 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 chi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. non pattina sugli sci ma pattina sui pattini proprio per questo sono un uomo da sposare che c'entra? vabbò forse Maria è una donna da sposare ma io di me devo parlare proprio per questo Maria sono un uomo io ah gli hai fatto la dichiarazione a Maria esatto a Maria De Filippi perché Maria De Filippi io no compa c'ha ragnatela anche la donna però era eh no era un brutto uomo ora è una bella donna sì ma la voce è brutta allora eh grazie che dobbiamo fare me la tocca la fagiana la coppa di volgare la fagiana è un uccello fagiana la fagiana fa rima con Fabiana si sa che Fabiana è un nome volg... non è vero Fabiana è un altro bel nome no oddio ok abbiamo finito le riprese salutate tutti salut Antonio salut Antonio che palle che palle allora tutti in bacio al cameraman chi è il cameraman? poi si vedevano vincere ci vediamo la prossima volta guarda i peli che cadono non è un uccello non è un uccello